E adesso due belle settimane per guardare la classifica, per bearci di questa classifica, per bearci di questi ritorni importanti. Sono contento, mi dispiace riparlare sempre dello stesso argomento, ma anche oggi gli organi di stampa finalmente dicono la frase che ho detto e ripetuto, le parole che ho detto e ripetuto in queste settimane. Datemi i miei giocatori almeno tre. Ibra, Cialanogluna ha la miglior forma e quello splendido Benasser. Il Milan può battere chiunque, può battere tutti perché il Milan non avrà l'organico di altre squadre, ma ha il gioco. Il gioco, fondamentale questo elemento, non fermatevi ai giocatori che nascono dalla panchina, che arrivano dalla panchina, a disposizione in panchina. Il Milan ha il gioco ed è un gioco propositivo, il gioco che Pioli vuole, con questo leader fantastico, magnifico. E parliamo di Zlatan Ibrahimovic, con il ritorno alla miglior forma di Cialanoglu e con questo Benasser. Finalmente oggi hanno scritto, abbiamo troppo sottovalutato l'assenza di Benasser, quanto sia importante la sua presenza. Finalmente, lo dico da settimane, Benasser e che si formano la miglior coppia di centrocampisti oggi in Europa. Esagero, ridono, non mi interessa, questa è la mia convinzione. Questa è la mia convinzione. Benasser è entrato e c'è stata una rivitalizzazione del gioco della squadra, con che sì che sembrava anche lui rinvigorito dalla sua presenza. E per questo il grande rimpianto del passato, del recente passato, quando l'Inter ha attaccato duramente il nostro primo posto, il Milan non aveva i mezzi per fermare questo assalto, perché depauperato dei suoi grandi giocatori. Il Milan non è inferiore a nessuno, perché rispetto agli altri avrà forse un organico inferiore. Dico forse perché Teo Hernandez ce l'ha al Milan, Kier e Tomori, poi apriamo una parentesi, ce l'ha al Milan, Donnarumma ce l'ha al Milan, Calabria ce l'ha al Milan. Li cambiate con degli altri in Italia, questi cinque? Non credo. Che si è Benasser ce l'ha al Milan. Li cambiate con qualche altro in Italia? Non credo. Là davanti c'è Ibrahimovic, lo cambiereste? Sì qualcuno mi potrebbe dire Lukaku o Ronaldo. Si tengono Lukaku, si tengono Ronaldo, due giocatori enormi, non le abbiamo ma noi abbiamo Zlatan Ibrahimovic. Ma mentre Cristiano e Lukaku forse non hanno ancora Lukaku, la personalità per far crescere anche i giovani, per dare rinvigorire un gruppo già forte come quello dell'Inter al Milan, Ibra dà anche questo, un surplus alle sue enormi qualità. Quindi un Milan che non è inferiore in complesso perché ha il gioco e finalmente hanno capito che cosa rappresenti. Mi auguro che finalmente capiscano che il vero rivale dell'Inter, ma solo perché l'Inter è davanti, il Milan è dietro, non sono ridicolo, i nuovi punti sono un abisso in questo momento. Però giustamente Zlatan Ibrahimovic carica la squadra, puntiamo là davanti e poi vediamo. L'importante è così che quando l'Inter si volta vede questi due fari rossoneri lontani ma che li vede sempre alle sue spalle. Il Milan doveva smentire gli scettici solo vincendo, deve smentire gli scettici solo vincendo e questo è quello che il Milan tenterà di fare e poi come diceva Maldini alla fine del campionato guardarsi intorno e vediamo chi è di fianco, chi è davanti, chi è di dietro. Però altro punto importante, adesso c'è una meravigliosa corrente di pensiero, il tomorismo. Lo chiedo scusa ai miei amici della mia chat di grandissimi tifosi rossoneri, sono stati loro che hanno coniato, credo, e quindi io non ho il copyright, quindi chiariamo perché la fonte va sempre citata, non mi voglio prendere dei meriti che non ho, ma è bellissimo il tomorismo. Questa corrente di pensiero calcistico, il tomorismo. Questo tomori, e devo chiedere scusa chi è, perché è un giocatore che dall'assist di spalla, e può capitare, dall'assist splendido, un lancio bellissimo a Zlatan Ibrahimovic che sposta il giocatore Pezzella, certamente uno spostamento meno invasivo di quello che per esempio è stato giudicato regolare di Achimi nel secondo gol dell'Inter contro il Torino. Ebbene, mi dice qualcuno, fatelo vedere la scuola di calcio. Guardate questa spinta di cui Pezzella neanche si è reso conto per quasi appoggiarsi per non andare in fuorigioco. È stata una mossa geniale di un giocatore fantastico, ma il lancio era di Chier, che è stato straordinario nella partita di Erico La Fiorentina. Di fianco a lui lo splendido tomori, il tomorismo, questo modo di giocare straordinario di uno dei giocatori oggi più forti del campionato italiano a livello di difensore centrale. Qualcuno potrebbe avere una preoccupazione per la sua conferma il prossimo anno, per il suo riscatto il prossimo anno. Vorrei tranquillizzare tutti. Qualcuno vuole addirittura proporre un aiuto al club per poter comprare il giocatore. Il club non ha bisogno di nessun aiuto, il club è ben sintonizzato, vorrei tranquillizzare tutti. Non ci sono trattative, non si chiedono sconti, non si mettono giocatori. Bisogna andare là, come vi ho già detto, con un assegno da 25 milioni di sterline, pari a 28 milioni di euro. Il Milan ha tutte le intenzioni, visto la forza del giocatore, la rarità di un giocatore così in quel ruolo, di partire a livello di campagna, rafforzamento il prossimo anno proprio con Tomori. Ha tutte le possibilità di prenderlo, non ci sono giocatori potenzialmente così forti come Tomori e quindi il Milan. Il primo acquisto ha intenzione di andare da Chelsea, mettere un assegno, nessuna discussione, nessun tentennamento, nessuna richiesta, nessun ostacolo da parte del Chelsea perché tutti presenti con 25 milioni di sterline e lo porti a casa. La prima missione, il primo acquisto del Milan 2020, scusate, 2021-2022 sarà Tomori, sarà Tomori. Andranno là giocatore importante, giocatore rapido, giocatore straordinario, il Milan sono stati bravi a individuarlo, la missione sarà primo, budget comporterà l'acquisto di Tomori. Su questo mi posso garantirvi, poi voi mi bacchetterete se non sarà vero, ma poi mi verrebbe voglia di bacchettare la proprietà se non riuscirà a prenderlo. Ma lì non serve riuscire o no, bisogna tirare fuori 25 milioni di euro, scusate di sterline, ma d'altra parte il Milan aveva il tesoretto risparmiato per Simacana a settembre, non impiegato perché ha preso Tomori a gennaio, ancora dall'anno scorso il tesoretto per il difensore centrale. Il Tomorismo sarà la nuova onda, la nuova ondata filosofica calcistica del Milan a livello di difensore centrale. Il Tomorismo che giocherà Tomori nella prossima stagione, senza tema di smentita, questo è l'obiettivo di oggi della società. Se vi è piaciuto oggi a fine marzo, se poi cambierà qualcosa non lo so, ma oggi l'intenzione forte è che Tomori sia un giocatore del Milan e il Tomorismo sia la nuova filosofia dei prossimi anni. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al YouTube di Carlo Pelegato.